Ciao a tutti e bentornati su Jurassic World Evolution 2 in un nuovo episodio del Jurassic Baby Park. Oggi in questo video costruiremo un recinto dedicato a vari dinosauri erbivori, tra cui anche un piccolo gruppo di brachiosauri e i loro cuccioli. Realizzerò anche un tour fluviale molto simile a quello di Jurassic World che i nostri visitatori potranno sfruttare per osservarli da vicino. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Signore e signori, bentornati su Isla Sorna. Nello scorso episodio abbiamo creato questo recinto per una coppia di spinosauri. Questo è l'esemplare adulto che ho cercato di ricreare uguale a quello che si vede nel film Jurassic Park 3, sfruttando il colore pelle, valle della morte e motivo pelo pilax. E lui invece è il suo cucciolo. Per crearlo ho utilizzato colore pelle montichilian e motivo rana. Nello stesso recinto ho naturalmente liberato anche un branco di coritosauri con colore pelle casuale e motivo casuale e anche alcuni parasaurolophus. Loro invece hanno come colore pelle e colore motivo parasaurolophus 2001. Perché alla fine comunque anche loro appaiono in Jurassic Park 3, magari solamente in un paio di scene. Già che c'ero ho messo i cuccioli di parasaurolophus, purtroppo non sono disponibili quelli di coritosauro. Questa è la zona che ho realizzato per i turisti. Devo ancora capire perché non arrivano fin qui. Perché vedete tutti i sentieri sono vuoti. E questa è l'area dedicata al personale del parco, anch'essa abbastanza spopolata. Oggi in questa parte dell'isola volevo realizzare una zona dedicata ai brachiosauri. Poi vediamo se inserire anche altri erbivori e volevo costruire anche un tour del parco acquatico. Poi più avanti capirete perché ho aggiunto questo aggettivo a tour del parco. Benissimo, ho ripulito la zona. Adesso tiriamo via anche l'acqua e dobbiamo appiattire tutto quanto. Prima di costruire la recinzione dobbiamo posizionare sul terreno il Jungle River Cruise, che sarebbe una specie di tour del parco acquatico, ovvero tramite gommoni. Direi che possiamo costruirlo tranquillamente qui e tracciamo il percorso di questi mezzi di trasporto. Direi che così può andare bene. Per far arrivare i turisti in questa zona costruiamo anche una stazione della monorotaia e la colleghiamo all'altra da questa parte. Poi per il momento attiviamo entrambe le strutture collegandole con una strada principale di lusso classica. Per far sembrare che i gommoni stiano viaggiando sull'acqua dobbiamo praticamente aggiungerne un po', in questo modo, seguendo tutto il percorso che abbiamo tracciato qualche secondo fa. Cercate di realizzare un fiume leggermente più largo rispetto al percorso, in questo modo queste imbarcazioni saranno sempre in mezzo all'acqua, perché praticamente cosa hanno fatto? Hanno reschinnato i mezzi del tour giurassico. Vedete le imbarcazioni, sembra veramente che navighino sull'acqua. A parte che adesso mi sembrano un po' troppo immerse però eh. Cioè qui basta che sbaglino una curva e rischiano di imbarcare acqua ed affondare eh. Direi che possiamo recintare tutta questa zona con la recinzione elettrificata piccola. Partiamo dalla stazione del Jungle River Cruise e passiamo qui di fianco alla stazione della monorotaia, ci avviciniamo alla zona dedicata al personale del parco ma non la tocchiamo con la recinzione. Seguiamo praticamente tutto il bordo della mappa. Arriviamo fin qui dove avevo costruito nello scorso episodio il rifugio d'emergenza vicino al recinto dello spinosauro e poi proseguiamo da questa parte. Dalla stazione delle imbarcazioni facciamo partire una recinzione in questo modo e poi ci ricolleghiamo a quella che abbiamo posizionato alcuni secondi fa e direi che così può andare bene. Per dare ai turisti la possibilità di vedere bene gli animali direi che in questo punto possiamo mettere una piattaforma panoramica. Al centro del recinto mettiamo una bella galleria panoramica a forma di tronco e posizioniamo l'entrata proprio da questa parte. Di fianco magari sovrapposte con questo edificio inseriamo anche due piattaforme panoramiche sempre di Jurassic World. Una la possiamo mettere in questo modo e l'altra da questa parte. Ecco fatto vedete sembrano un edificio unico. Poi selezioniamo il sentiero standard e naturalmente cerchiamo di collegare questi tre edifici alla strada principale. In questo modo magari non la tracciamo dritta ma leggermente curva. E sempre utilizzando il sentiero standard attiviamo anche questa piattaforma panoramica. Per quanto riguarda i servizi per i visitatori visto che non c'è molto spazio a disposizione costruiamo semplicemente dei bagni in questo punto qua e un altro rifugio d'emergenza sul lato opposto della strada. Passiamo all'incubatrice dalla quale faremo uscire gli animali che andranno a popolare questo recinto. Direi di costruirla in questa zona qua e la possiamo collegare alla strada principale passando dalla zona dei lavoratori. In questo modo vi faccio vedere immediatamente. Utilizzando il sentiero strutture tracciamo una strada di questo tipo che arrivi fin qui. Aggiungiamo poi un cancello. Eliminiamo questi container che danno leggermente fastidio. Proseguiamo con la strada da questa parte. Magari la curviamo leggermente. Ecco fatto. Passiamo vicino alla gru. Ci districhiamo in mezzo alle gabbie e ci colleghiamo a quest'altra strada. Possiamo aprire tranquillamente il cancello. Vi ricordo che sono riuscito a tracciare la strada sul cancello grazie alle mod. A parte che avevo realizzato comunque anche un video dove vi facevo vedere vari trucchetti come questo anche senza utilizzare quest'ultime. Ho messo due riflettori. Tiriamo via ancora questi due container perché volevo inserire anche una torre di guardia. Direi che qui va benissimo. Iniziamo a preparare gli animali e vorrei liberare un po' di brachiosauri. Direi che tre esemplari adulti possono andare bene. Utilizziamo il modello brachiosauro 2001. Naturalmente ci sarà all'interno del recinto un brachiosauro con la stessa skin di quello che si vede nel film Jurassic Park 3. Gli altri due adulti li creiamo con colore pelle casuale e motivo casuale. E adesso creiamo i piccoli quindi andiamo di nuovo su brachiosauro. Poi ci spostiamo per quanto riguarda la variante corpo. Dobbiamo selezionare variante corpo baby brachiosauro. Colore pelle direi brachiosauro 2001 piccolo. Va benissimo. Iniziamo l'attività e poi ne creiamo altri due sempre piccolini. Tenete presente che ci sono due varianti corpo baby brachiosauro. Quella con la cresta che è questa qua e quella senza cresta. Infatti gli altri due non ce l'avranno. Gli animali sono pronti e direi di partire dal king di tutti i brachiosauri. Quello di Jurassic Park 3. Eccolo che arriva. Credo che sia uno dei più belli tra tutti quelli visti nei film. Adoro il suo collare rosso. È veramente un animale enorme. Guardate che roba. Godiamoci la sua liberazione dall'incubatrice. Ha bisogno di foresta e frutta guscio bassa. Direi di iniziare a mettergliene un po' di vegetazione. Magari la potremmo prima disporre tutta attorno al recinto. Questo mi ricorda tanto il tour sul fiume di Jurassic World. Non so se avete presente quello che si intravede nel film. Sarebbe stato bello se avessero inserito ufficialmente quell'attrazione all'interno del gioco. Invece purtroppo ci dobbiamo accontentare delle mod. Purtroppo o per fortuna esistono le mod. Intanto possiamo mettere un po' di vegetazione anche qua. A parte che vuole anche frutta guscio alta. Quindi magari potremmo fare un mix. Ok direi che per il momento può andare bene. Mi piace come i veicoli se uno di questi animali attraversa l'acqua rallentino in modo da non colpirlo. Passiamo agli altri due brachiosauri. Questi avranno due colorazioni diverse. Variante corpo mi pare di aver scelto la stessa. Quindi sempre quella di Jurassic Park 3. Credo che sia anche uno degli animali più lenti ad uscire dall'incubatrice. Ma ci sta data la sua stazza. Allora uno è sul verdino azzurrino e l'altro sul rossiccio. Tra i due devo dirvi la verità mi piace molto di più il primo. Questo qua. Piuttosto che il secondo. Fatemi sapere nei commenti invece quale piace di più a voi. Se questo qui con queste strisce azzurre e marroncine. Oppure l'altro con lungo il corpo strisce verdine e azzurrine. Qui davanti direi di non mettere alcun tipo di vegetazione. In modo che non appena le barche svoltano l'angolo. Se stiamo liberando magari qualche animale riescono a vederlo immediatamente. Comunque si vede che è praticamente una reskin. Guardate la barca come si muove. Sembra praticamente una macchina. Ha fatto retromarcia come un veicolo su strada. Ma li volete vedere i cuccioli? Ecco il primo. Con la variante 2001. 2001. Baby brachiosauro 2001. Praticamente ha la cresta questo qua. È meraviglioso. Guardate un po'. Sapete che non mi ricordo come si chiama il brachiosauro di Camp Cretaceous. Se ve lo ricordate scrivetemelo nei commenti. Perché magari potremmo assegnare a uno di questi animali il suo nome. Comunque fa strano vedere un brachiosauro così piccolo uscire dall'incubatrice. Fa veramente molto molto strano. E adesso vi mostro anche gli altri due. Questi però non avranno la cresta. Quindi praticamente assomigliano di più a quello visto nel film Jurassic Park. Quando i protagonisti arrivano praticamente sull'isola. Eccoli che arrivano. Che colorazione particolare che ha il primo. Credo che anche la colorazione almeno del primo sia una mod. Perché infatti l'altro è un pochettino più classico come animale. Invece lui ha delle strisce che non avevo mai visto. Non me le ricordavo. Sinceramente. Oddio. È sbucato all'improvviso fuori dall'incubatrice. Tra i due credo che mi piace di più questo qua. Anche in questo caso fatemi sapere quale preferite di più. Tra quello marroncino là in fondo. E questo qui che potremmo definire giallino. Guardate che belli questi due animali mentre interagiscono tra loro. I visitatori in questo momento possono assistere veramente ad una scena incredibile. Guardate come si toccano. E incrociano i due colli. Aggiungiamo come abbiamo fatto l'altra volta. Negli altri recinti anche un po' di rocce. Anche in questo caso ne metterò di vario tipo. Partendo da quelle provenienti dal bioma tropicale. Cerchiamo di non metterne troppe in mezzo all'acqua. Perché non vorrei che i veicoli si incastrino. Ok direi che così può andare bene. Ho messo un po' di rocce qua e là in giro per il recinto. Qui dietro ne possiamo mettere una di questa grandezza. Per nascondere un pochettino l'edificio. Poi ne ho distribuite altre da questa parte. E adesso possiamo metterne altre provenienti da altri biomi. Come per esempio quello montano. Magari le possiamo mettere vicino alle rocce tropicali. Aggiungiamo anche delle rocce provenienti dal bioma temperato. Con alcune di esse si possono decorare a volte i recinti in modo abbastanza particolare. Ed infine non possono assolutamente mancare le rocce della taiga. Qui magari ne possiamo mettere alcune grandi per nascondere ancora di più l'uscita e l'entrata della stazione del tour fluviale. Io vi giuro che non capisco come mai non sono ancora intervenuti per quanto riguarda il comportamento dei turisti. Perché ogni tanto si raggruppano in questo modo e purtroppo questo grumo di persone non si distrugge e rimangono tutte compatte. Ed è un po' brutto da vedere ecco. Ragazzi finalmente i cuccioli hanno raggiunto gli adulti. Guardate che belli. Tutti vicini tra loro. Devo dire che vederli pascolare e muoversi in branco è veramente una cosa meravigliosa. Questa quantità di questi animali credo che possa andare bene in questo recinto perché non vorrei... Oh mio dio. L'ho notata soltanto adesso. C'è una barca praticamente sotto le zampe del brachiosauro. Credo che quelle persone se non si sposteranno in fretta faranno una brutta fine. Che ne dite? Liberiamo anche degli anchilosauri? Dai, liberiamo anche un piccolo gruppo di anchilosauri con dei piccoli naturalmente. Potremmo creare tre adulti con uno alla skin 2001, uno alla skin di Bumpy e il terzo con una skin casuale. E adesso tocca i cuccioli. Anche loro direi di crearli con colore pelle casuale e motivo casuale. Nel frattempo io continuo a decorare il recinto aggiungendo magari anche degli alberi caduti qua e là. Perché ci sta che comunque per mangiare questi dinosauri tirino giù anche delle piante. Ed ecco che arriva il primo, quello con la skin 2001. Poi ho valutato un attimo quali altri animali liberare qui dentro perché comunque di spazio ce n'è. E mi è venuta una bella idea. Tra tutte le skin dell'anchilosauro questa è una delle più belle. Insieme a quella, vabbè, di Bumpy che è ultra famosa. Comunque non fatelo mai arrabbiare un erbivoro di questa stazza e di questo tipo, eh. Perché con quella coda a martello potrebbe fare i grandi danni. Adesso tocca a irregolare. Eh, volevo dire Bumpy. Vi giuro che la traduzione in italiano di questa skin è orribile. Come caspita si fa a tradurla in irregolare. In ogni caso è meravigliosa. E addosso all'anchilosauro ci sta benissimo. Ve la faccio vedere velocemente da vicino. Anche se l'abbiamo già vista in altri video di questa serie. Più che altro perché prima l'inquadratura era finita in mezzo ai fili d'erba. E quindi non si vedeva più l'animale. Adesso tocca al terzo animale di questa specie. L'ho creato con colori casuali. E poi lo so, non vedete l'ora di vedere anche i piccoli anchilosauri. Poi ho degli altri cuccioli da mostrarvi anche. Perché come vi dicevo prima mi è venuto in mente chi potrei inserire all'interno di questo recinto. Grazie mille fili d'erba, gentilissimi. Lui ha la corazza di un colore marroncino. Direi che non è niente male, però naturalmente preferisco gli altri due. Avanti con i cuccioli! Ne ho creati tre con colorazioni casuali. Guardate che belli! Guardate che belli! Ma lo volete vedere un cucciolo di Bumpy? Dai vi faccio vedere poi anche un cucciolo di Bumpy perché si può creare. Bellissimi. Meravigliosi. Veramente meravigliosi. Sono tra i cuccioli più belli di questa mod. Sì, forse li potevano creare un pochettino più corti ecco perché sono un po' lunghetti. Sembra che abbiano addosso la corazza degli adulti. Purtroppo ho una brutta notizia. Non c'è la possibilità di creare una mini Bumpy. Ho selezionato dei colori simili a quelli presenti nella sua skin e ho cercato di creare un anchilosauro baby che assomigliasse a lei. Però purtroppo non si può creare una mini Bumpy. Gran peccato. Devo dire che è un gran peccato. I piccoli quando entrano in acqua praticamente rimangono completamente sommersi. Occhio alla barca eh che stava per centrarne uno. Allora vediamo di che cosa hanno bisogno. Frutta basse, foglie basse. Nessun problema. Credo che possiamo mettere tutto quanto tranquillamente perché di spazio ce n'è. E ci sono ampie zone che devo ancora decorare. Facciamo in modo che si spostino naturalmente in lungo e in largo nel recinto per farsi vedere un po' da tutte le persone che saliranno sul tour acquatico, chiamiamolo così. Vorrei che si stabilissero soprattutto in questa zona perché così diventa più facile vederli. Allora hanno bisogno anche di frutta bassa quindi possiamo aggiungere queste piante. Ricordiamoci di non metterne troppe perché poi sono brutte da vedere. Magari vicino alle rocce, ai tronchi ci stanno. Frutta bassa ne possiamo mettere un po' anche da questa parte. Dovrebbero esserci abbastanza foglie basse e frutta bassa quindi a breve la stanghetta dovrebbe raggiungere la zona bianca. Adesso vediamo. Comunque zitto zitto è già scappato un anchilosauro. Quindi adesso gli mandiamo una squadra di cattura e lo riportiamo da dove è venuto. Mentre con la squadra di guardiani andiamo a riparare la recinzione. Siamo già arrivati praticamente. Ha fatto un gran casino comunque. Anchilosauro, anchilosauro. Hai fatto un gran casino. Ah, ha distrutto anche questo pezzettino di recinzione. A parte che c'è un baby anchilosauro quindi dobbiamo aspettare che si spostino perché se no non possiamo ripararla. Intanto lui lo prendiamo e lo portiamo qui. Anche loro direi di catturarli e spostarli dall'altra parte. Naturalmente trattandosi di una mod non potete pretendere che l'animale venga trasportato in modo tra virgolette regolare. Guardate come si sta contorcendo in modo particolare. Ho guardato un attimo gli animali che potremmo inserire all'interno di questo recinto. E tra quelli che il brachiosauro adora ci sono anche i pachicefalosauri. Quindi direi di creare un piccolo gruppo di questi dinosauri. E lo sapete che si possono creare anche i cuccioli di pachicefalosaurus. Questi sono gli esemplari adulti che abbiamo già visto, rivisto e stravisto più e più volte. Ne ho creati in totale cinque. Ecco gli ultimi due, sono un po' più timidi rispetto agli altri. Stanno uscendo con calma dall'incubatrice. E questi sono i cuccioli. Ne ho creati quattro. Sono praticamente identici agli adulti, solo leggermente più piccolini. Che bella questa inquadratura. Possiamo osservare un fantastico terreno. Guardate come socializzano. Non si prendono a capocciate proprio perché sono dei cuccioli. Però per il resto comunque ci sono delle interazioni tra i vari esemplari della stessa specie. Forse hanno cambiato idea. Vediamo se si danno due capocciate, ma non credo eh. No, si accarezzano solamente. Quindi probabilmente per crearli hanno utilizzato non la base del pachicerfalosauro, ma la base di un qualche altro erbivoro più piccolo rispetto a quello che abbiamo citato adesso. C'è un brachiosauro che ha deciso di fare un riposino proprio davanti alla galleria panoramica a forma di tronco, mentre dall'altra parte ce n'è un altro che sta passando proprio qui davanti. Direi che la galleria panoramica a forma di tronco l'abbiamo posizionata in un punto perfetto. Oh, guardate! Un cucciolo e l'adulto. Procediamo con il decorare questa zona. Direi che un paio di piante di questo tipo, in quest'angolo e nell'altro, posizionate in questo modo, ci possono stare bene. Poi mettiamo lungo il percorso delle luci classiche di tipo 2, però non arriviamo proprio davanti all'entrata, perché davanti all'entrata voglio metterci qualcos'altro. Qui ne possiamo mettere tre perché c'è abbastanza spazio, anche da questa parte. Poi ne mettiamo due anche qui e due anche da questa parte e l'ultima di qua. Poi davanti all'entrata, sui due lati, aggiungiamo delle fontane di tipo 2, con qui in mezzo un bello striscione verde di Jurassic World. Qui mettiamo due fontane di tipo 1, per decorare un po' di più la stazione della monorotaia. E poi, anche in questo punto qua, uno striscione di Jurassic World perde. Non ho a disposizione lo scheletro di Brachiosauro, ma di fianco alle due fontane che abbiamo costruito prima, da una parte e dall'altra, possiamo metterci due scheletri di Apatosauro. Sul lato sinistro e destro della strada, due fioriere con fogliame di tipo C, provenienti dal bioma del deserto. Lungo la strada che porta verso questa piattaforma panoramica, aggiungiamo dei vasi di tipo 1, provenienti sempre dal bioma del deserto, in modo da creare questo effetto. E qui in fondo aggiungiamo una fioriera con fogliame di tipo B, più un vaso di tipo 1. Così siamo sicuri che i turisti non andranno da quella parte. Invece lungo questa strada, delle fioriere con fogliame di tipo C, però provenienti dal bioma mediterraneo. Le mettiamo praticamente tra le varie luci che abbiamo posizionato sulla mappa. Qui invece possiamo inventarci qualcos'altro, per esempio una bella fioriera di tipo B con albero. Sul lato destro invece, delle rocce piccole, provenienti dal bioma tropicale, come ho già fatto anche in altri parchi che ho costruito in precedenza. Seguiamo tutto il bordo della strada. Ci fermiamo qui perché sia da un lato sia dall'altro voglio mettere una fioriera con il teschio di T-Rex. Anzi, sul lato destro mettiamo questa fioriera con quest'altro teschio di dinosauro. Non so che animale sia. Sembrerebbe uno spinosauro ma non ne sono sicuro, anzi, non credo proprio che sia un teschio di spinosauro. Mi sembra troppo piccolo, vedete? Non riesco a identificarlo, se devo essere sincero. Comunque alla fine ho cambiato idea. Ho deciso ogni due rocce piccole di mettere un vaso di tipo 1 proveniente dal bioma mediterraneo. Tanto per dare un tocco di colore, perché una striscia di rocce non era bellissima da vedere. Non possono assolutamente mancare delle panchine. Ne mettiamo due, ciascuna davanti ad una delle fioriere. E facciamo la stessa cosa anche da questa parte, nonostante prima ci fosse parecchio traffico su questa strada. Aggiungiamo anche dei cestini perché vogliamo che il parco rimanga pulito. E qui anche un tocco di colore, una bella piantina tropicale dentro a questo vaso. Eliminando due luci classiche possiamo aggiungere anche un arco di roccia in questo punto qua. Facciamo dei passi indietro, ho tirato naturalmente via lo striscione di colore verde. Niente male. Direi che ci può stare come decorazione. Qui mettiamo due aste, una da una parte e l'altra dall'altra. Di fianco all'entrata della galleria panoramica a forma di tronco mettiamo due piante di questo tipo. Qui invece possiamo aggiungere delle fioriere con fogliame di tipo C, da una parte e dall'altra. E qui in fondo invece una bella fioriera con rocce. La facciamo partire da questa parte. Ho lasciato abbastanza spazio per metterci degli striscioni di Jurassic World verdi, vedete anche qua. Poi qui in fondo un'estremità in muratura e due striscioni di Jurassic World rossi. Come ho già fatto in precedenza per illuminare la porta del rifugio d'emergenza possiamo inserire qua al centro un bel riflettore. Poi qui attorno mettiamo delle piante di Jinkgo. Si spawnano eh naturalmente. Ecco fatto. Vediamo i nostri visitatori cosa riescono a osservare dalle varie piattaforme panoramiche. Qui non c'è niente. Dall'altra parte forse riescono a osservare qualcosina di più. Ah là in fondo c'è un pachicefalosauro. Ma dove sono finiti tutti gli animali scusate? Perché c'è un pachicefalosauro qua e basta. Ma i brachiosauri invece? Ah sono tutti qui che danno fastidio ai nostri turisti? Infatti se saliamo su questa piattaforma panoramica li possiamo osservare mentre li schiacciano senza pietà. In realtà i brachiosauri sono degli animali perpidi. No scherzo scherzo. Sapete cosa mi sono dimenticato? Di cambiare il colore del terreno e di utilizzare le varie vernici tipo quella di color fango, color sabbia eccetera eccetera. Quindi ne approfittiamo immediatamente. Magari il fondale del fiume lo possiamo colorare utilizzando la vernice color roccia. Qui ci passiamo della vernice color fango di colore marrone. Magari aggiungiamo anche un po' di sabbia, non troppa però eh. Perché troppa poi è brutta da vedere. E adesso con la vernice color roccia seguiamo tutto il letto del fiume. Ok direi che anche questo recinto è veramente veramente meraviglioso. Proviamo a vedere se riesco a fare il tour giurassico ma non credo. Vedete perché se premo trattandosi di una mod non mi fa salire. Peccato perché avrei voluto dare un'occhiata da vicino agli animali. Ci facciamo tranquillamente un giro in prima persona. Nessun problema stavo pensando che però potevo liberare anche un carnivoro. Sapete chi manca che effettivamente i protagonisti di Jurassic Park 3 incontrano vicino al letto del fiume? Il ceratossauro. Lo creiamo con questa colorazione. Colore pelle foresta di mangrovie e motivo pulcerana. Ed eccolo che arriva. Non poteva assolutamente mancare. Purtroppo non esistono i cuccioli di ceratossauro. Ve lo dico già. È un gran peccato. Però non è detto che magari non li aggiungano in futuro eh. Guardate che bello sta attraversando il fiume. Allora vediamo di che cosa ha bisogno. In teoria di prede. Per lui ci sarebbero già abbastanza prede. Io preferirei che non mi attaccasse i dinosauri erbivori che ho creato e ho liberato qui dentro. Quindi mettiamo una mangiatoia per carnivori qui. Una mangiatoia per carnivori da questa parte. E una mangiatoia con esche vive proprio qui. Così almeno se ha fame ha tre punti dove dirigersi. Dove sicuramente troverà da mangiare. Signori con questa bellissima immagine di questa meravigliosa famiglia di Brachiosauri. Direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Jurassic World Evolution 2 qua. Se il video vi è piaciuto mi raccomando come sempre ricordatevi di lasciare un bel mi piace. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci rivediamo presto in un nuovo episodio del Jurassic Baby Park. Alla prossima!